Benvenuti, visitatori! Io sono Mr. DNA e sarò la vostra guida turistica di oggi, qui all'avventura nascosta. L'avventura nascosta è un'attrazione, se non sbaglio. Allacciate le cinture, la scelta è tua. Che cosa stiamo aspettando? E andiamo! Fidati del tuo istinto. Devo fuggire da qui, Liana o albero? Liana o albero? Oh, c'è mancato davvero un pelo! Non abbiamo tempo per trovare un'altra strada. No, dobbiamo tornare sui nostri passi. Non è stata una buona idea? 2005. 2015. È 2974. Ora che facciamo? Correte! Niente rischi, niente ricompensa. Ma siamo sopravvissuti, non è già questa una ricompensa? Ma sì! Siete arrivati molto lontano, ma state allerta, non si sa mai cosa si nasconde nella giungla. Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Che cosa facciamo?